Ciao amici e benvenuti nella recensione di Fireblam Various 3 Opus. Musu, strategia RPG, combinazione perfetta? Scopriamolo in questa recensione. Prodotto Nintendo in collaborazione con Tecno Koei, sviluppo V Omega Force, lingua in inglese e giapponese e coi sottotitoli in italiano. Disponibile come esclusiva Nintendo Switch, prezzo di lancio 59,90€ la versione normale e 100€ la Special Edition. Genere, Musu, strategia RPG. Parliamo un po' dalla trama. Abitato nel Fondland, un contenente governato da tre grandi potenze che purtroppo sono in guerra tra loro. Il giocatore ovviamente dovrà determinare il loro destino. Cioè starà a noi praticamente a vedere come risolviamo la situazione. Parliamo un po' dalla grafica. Allora, l'aspetto tecnico del gioco, come da tradizione del genere Musu, è in stile anime. Offre abitazioni dettagliate varie e abbastanza fluide. Insomma, hanno un frame rete piuttosto, diciamo, curato. Piuttosto potrebbe migliorare. Buona che desede i personaggi dei nemici. Sono vari, dettagliati e con animazioni fluide. Il comparto sonore è curato con musica a tema ben implementate. Insomma, tra momenti di filmate e azione si inseriscono bene. E adesso direi da parlare un po' del gameplay per dimmi un po' com'è il combat system. Ci vediamo tra poco. Eccoci qui con la parte del gameplay. Vomega Force stavolta non ha voluto creare il solito Musu. Ha voluto, diciamo, strizzare l'occhio ai fan della serie Fareblem. Ricordiamoci che questo è uno spin-off. Quindi, diciamo che, bene o male, non appartiene del tutto alla serie, ma comunque si colloca allo stesso. Quali sono questi elementi tipici presi dagli altri capitoli originali della serie Fareblem? L'elemento strategia e l'elemento RPG. Andiamo con ordine. Nel gioco potremo scegliere il nostro personaggio, maschio o femmina. Potremo anche creare il nostro cattivo, maschio o femmina. E potremo anche scegliere, nel corso delle battaglie, di controllare altri personaggi, ovviamente, oltre al nostro mercenario creato. Ogni personaggio, compreso il nostro mercenario, avrà le proprie abilità speciali, che, nel corso delle battaglie, quando non le superiamo, potranno, diciamo, crescere di livello. Crescendo di livello, diventeranno sempre più efficaci durante il combattimento. Qui, quindi, c'è una sorta di elemento RPG. Il personaggio cresce, diventa sempre più potente. C'è un'altra cosa che cresce, oltre al personaggio. Sono anche le armi. Più noi utilizziamo un'arma in battaglia, più quest'arma guadagnerà esperienza e diventerà sempre più efficace. Crescendo il personaggio, crescendo l'arma, potremo sbloccare delle nuove abilità, potenziare gli attacchi, la difesa, eccetera, eccetera. Non solo, potremo acquistare altre armi, equipaggiarle, ad esempio, sia nel nostro personaggio, o anche, farle equipaggiare anche agli altri personaggi. Insomma, un personaggio non è legato, diciamo, alla propria arma. Può equipaggiare qualsiasi tipo di arma. Ovviamente, quest'arma dovrà crescere di livello per far sì che il personaggio la utilizzi al meglio. Dicevamo anche che le armi possono essere acquistate attraverso il campo base, che è una sorta di hub, se vogliamo dirlo, una pausa tra una battaglia e l'altra. In questa base, oltre a potenziare le armi, potremo anche, diciamo, parlare con gli altri membri, far crescere la fiducia, potremo anche acquistare armi e oggetti utili, sempre per il potenziamento dei personaggi. E qui, praticamente, finisce l'elemento RPG. Poi arriva l'elemento strategico. L'elemento strategico, che, oltre ad avere le armi sempre più potenti e i personaggi, ovviamente, potenti, perché i boss e i nemici, andando avanti nel gioco, diventeranno un pochettino ostici, c'è anche l'elemento di strategia. Allora, l'elemento di strategia funziona così. Noi, nel campo di battaglia, ovviamente, me ne remo le mani. Pro stile Musou. Però il gioco ci dà anche la possibilità di comandare gli altri, diciamo, gli altri alleati. Non solo in modo diretto, ma potremo anche impartire degli ordini. Ad esempio, attacca una base, attacca un nemico, o se no difendi un determinato personaggio, che può essere, ad esempio, il leader della nostra fazione. Questo elemento di strategia è molto utile, perché, ad esempio, noi non potremmo fare 3.000 cose, quindi assegnare un compito a alcuni personaggi appartenenti al nostro party sarà molto utile per velocizzare un po' l'azione di gioco, specialmente anche contro i boss, quindi serve un po' di coordinazione, anche perché il gameplay comunque è molto frenetico, sì, ma è anche molto tattico e anche impegnativo. Un'ultima cosa, ritornando al fatto del capo base che noi praticamente possiamo parlare con gli altri personaggi. Parlare con gli altri personaggi farà aumentare la fiducia, quindi in questo caso sarà molto utile quando impartiamo gli ordini a qualsiasi personaggio per aiutarci nel capo di battaglia, perché più la fiducia è alta, più il nostro personaggio avrà, diciamo, una maggior possibilità di farcela durante il capo di battaglia, perché nel gioco sono disponibili diversi gradi di difficoltà e uno di questi gradi prevede anche la morte dei nostri personaggi in modo permanente, quindi bisogna fare anche attenzione. Bene, direi da passare a se disegnirvi un po' com'è questo Fareblem Various. Ci vediamo tra poco. Io ad origine Musu, c'è anche mio papà che gli piace. Noi, diciamo, l'abbiamo conosciuto questo tipo di genere attraverso Dynasty Various e Samurai Various, poi tutti gli altri giochi, eccetera, eccetera, che sono usciti tipo Various Procchi e via dicendo. Poi alla fine ho beccato anche Fareblem Various, spin-off della serie creata ovviamente dagli stessi caratteri di Dynasty Various, V Omega Force. Però in questo secondo capitolo ha voluto, diciamo, fare qualcosa, non dico di diverso, ma aggiunge due caratteristiche tipiche della serie originale, che ovviamente ha mantenuto, sì, lo spirito del Musu, ma anche ha aggiunto qualcosa in più, ovvero questi elementi tipici su quelli che abbiamo descritto, l'elemento tattico e l'elemento RPG. Potenziare i personaggi è utile, impartire gli ordini durante le battaglie sarà ancora più utile, visto che non potremmo far tutto. Quindi un aiuto verso i nostri personaggi del party sarà molto, diciamo, utile e fondamentale se vogliamo avere la meglio durante gli scontri, specialmente contro i boss di fine livello che sono belli impegnativi. In partire gli ordini ovviamente il nostro personaggio, con i suoi potenziali di tutto, lui si arricchierà sul posto, dipenderà o attaccherà la base a secondo quello che gli abbiamo, diciamo, ordinato noi. Ovviamente la sua efficacia aumenta ancora di più, non solo per i potenziali di aumenta, ma anche per i legami. Durante le pause del campo di base, ovviamente parlando con lui in base alla risposta, diciamo che avrà più fiducia o meno rispetto, diciamo, a quello che diremo praticamente. Quindi il gameplay risulta essere divertente, impegnativo, tattico e soprattutto anche bello frenetico. Insomma, un bel gameplay, bello nutrito. Dal punto di vista tecnico, invece, si mantiene bene, fluidità piuttosto buona, comunque devono un po' migliorare col motore grafico, perché ogni capitolo di Musou ho notato una cosa, il motore grafico sente il peso degli anni, comincia un po' a vacillare, dovrebbe un po' potenziarlo, perché potrebbe fare molto in più, perché visto che il capo di battaglia si ripieva di nemici, è giusto avere una buona fluidità, sì, ma anche un motore grafico bello, decente, se vogliamo dare ai giocatori diciamo un senso di battaglia realistico. Bene, questa è la fine della recensione di Fareblem Various, spero che vi sia piaciuta, lasciate un like e un commento se volete, iscrivetevi al canale, il link di iscritto lo trovate come sempre per le sue altre informazioni. Un saluto da Bomber, che sono io, l'uomo misterioso, Lady Blu'e e salutiamo anche la nostra mascotte che purtroppo non c'è più, forza. E noi ci vediamo per i prossimi video. Bella ragazzi! Ciao!